Ha perso il bambino che aspettava dopo aver assistito a una lita in strada tra il marito e un altro automobilista. I due stavano venendo alle mani dopo un incidente. La giovane donna, una trentenne, ha corsa sul posto nella concitazione e si è sentita male. Soccorsa dal suo M118, è stata trasportata ad urgenza in ospedale dove ha però abortito. Il grave episodio è martedì a Biadene di Montebelluna dove il marito della donna e un quarantenne, dopo un incidente in auto, si sono scambiati urla e spintoni. La giovane, incinta, è arrivata sul posto ma si è fermata a pochi passi, dai due senza entrare in contatto e senza subire colpi o strattoni. Quando il quarantenne, probabilmente alterato dall'alcol, è caduto a terra perdendo i sensi, la donna si è sentita male. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso di Montebelluna dove la trentenne ha perso il piccolo. Il caso è stato segnalato dai carabinieri alla procura.